Edoardo Donnamaria perde le staffe con Antonella Fiordelisi. Mi fai schifo Antonella Fiordelisi mette spalle al muro il fidanzato. È caos al grande fratello Vip La puntata di lunedì scorso del reality show Vip è stata particolarmente complicata per Edoardo Donnamaria e la sua fidanzata Difatti Alfonso Signorini ha mostrato dei video in cui il giovane concorrente in questi giorni si è molto avvicinato a Nicole Murgia facendo andare su tutte le furie la sua fidanzata In queste ultime ore i due, in presenza di Oriana, Jaele e Milena, sono tornati a confrontarsi proprio su tutta questa faccenda In questa circostanza la Fiordelisi ha anche colto la palla al balzo, per accusare il ragazzo di aver salutato l'altra mattina la Murgia usando la celeberrima frase del film La vita è bella. Buongiorno principessa A quel punto Edoardo ha perso completamente le staffe negando prontamente di aver mai detto una cosa simile all'ex inquilina della casa più spiata dagli italiani Non ce l'avevo con lei, è stata una frase detta a caso Edoardo Donna Maria si arrabbia con la concorrente. Mi fai schifo Il concorrente del grande fratello Vip, è però un vero e proprio fiume in piena Difatti quest'ultimo ha poi voluto ricordare a Doriana, Milena e Jaele che Antonella Fiordelisi in puntata l'avrebbe accusato di aver parlato della Murgia con lei sotto le coperte Se è davvero così giuralo su tua madre Quest'ultima non solo ha giurato, ma ha anche dichiarato che in quella circostanza avrebbe fatto pure degli apprezzamenti nei confronti dell'ex concorrente Ti ho detto molto sinceramente che non era tutta questa bellezza Parole che hanno fatto arrabbiare ancora di più Edoardo, il quale ha mandato letteralmente a quel paese Antonella Vaffan asterisco asterisco lo va Punto Giuri su tua madre il falso, fai schifo Ormai pare che la situazione tra i donnalisi sia sempre più critica Riusciranno mai a chiarirsi? Grande fratello VIP La concorrente non perde la calma e replica al fidanzato Vuoi buttare fango su di me? Antonella Fiordelisi, che lunedì scorso è stata criticata da Orietta Berti Ha comunque mantenuto il self-control rispedendo al mittente tali accuse Quando tu sai di aver sbagliato vuoi buttare la mia asterisco asterisco a su di me e questo mi fa sempre più schifo E il confronto tra la ragazza ed Edoardo Donna Maria è continuato ancora per diversi minuti lasciando davvero senza parole le tre inquiline della casa più spiata dagli italiani presenti Cosa riserverà il destino alla coppia? Chissà, intanto dopo questo ennesimo scontro molti concorrenti non hanno nascosto di credere non siano fatti per stare l'uno con l'altra Con buona pace dei tantissimi fan della coppia